Buona domenica a tutti. A seguito dell'approvazione nella finanziaria regionale del fatto che si può appunto concedere il suolo pubblico gratuitamente a tutte quante le attività commerciali, anche con un allargamento chiaramente appunto della superficie, ecco noi vogliamo trasformare Furcisicolo quest'estate in un vero e proprio villaggio turistico. Dobbiamo tra virgolette sfruttare questa occasione per cercare di rimettere in moto appunto l'economia e quindi dobbiamo agevolare chiaramente i titolari di bar, di ristoranti, di pasticcerie, di gelaterie, di pizzerie ma non solo. Qualsiasi commerciante potrebbe chiudere del suolo pubblico e noi saremo a completa disposizione. Ecco io è così che immagino Furcisicolo quest'estate. Non è detto che sia una brutta estate, a mio avviso si può trasformare in una bellissima estate. Furci come un villaggio turistico. Questa è l'immagine che io ho del mio paese e cercheremo di renderla tale con l'aiuto di tutti quanti i commercianti che incontrerò, incontreremo anche con l'assessore Arramo nella prossima settimana, ovviamente non di persona ma magari su zoom o tramite qualche altro strumento appunto che ci fornisce il telefonino, in modo tale da poter fare il punto della situazione, in modo tale da trasformare il paese come se fosse un grande bar all'aperto, un grande ristorante appunto all'aperto. Noi concederemo più spazi possibili a tutti quanti gli operatori commerciali e quindi anche possibilmente un tabacchino che vuole mettere le cartoline fuori o perché no anche un negozio d'abbigliamento si potrebbe anche trovare una soluzione in tal senso. Ecco rendere il nostro paese il più vivibile possibile da un punto di vista turistico perché io credo che le persone verranno soprattutto da dentro la regione, tante saranno le persone da altre province che si sposteranno nella nostra livella ionica. Noi siamo pronti ad affrontare una bella stagione turistica, ovviamente con tutte le precauzioni del caso e nella massima sicurezza.